stando ai rumor del web kairi sane potrebbe tornare negli show della wwe prima del previsto e magari già nel giro di qualche settimana corey graves si è fatto un tatuaggio speciale in memoria di bray wyatt eccolo qui in tutta la sua bellezza stando ai rumor anche katana shens sarebbe al momento in lista infortunati il problema di cui soffrirebbe tuttavia non è al momento noto amici stasera si riaccende il mio canale twitch con il bar del wrestling la rubrica dei fan per i fan diretta gratuita per tutti dalle 22 30 non mancate durante il suo podcast kevin nash ha detto di aver parlato con triple h in merito alle voci che lo vorrebbero prossimo al divorzio da stephanie mcmahon il re dei re cadendo dalle nuvole le ha energicamente smentite